Faded Views è un disco che rispecchia comunque questa fase, questo momento della mia vita quindi ci sono tante influenze anche legate al jazz, ci sono tanti anche musicisti che hanno partecipato alla sua scrittura rispetto magari anche ai primi album che invece penso a Veleno, Plush & Safe che sono più prodotti, più elettronica insomma quindi sì è un disco che parla, Faded Views sono queste immagini sfumate è un disco che parla di impermanenza, della trasformazione, del fatto che le immagini non sono nitide ma si muovono ed era un po' quello che volevo raccontare, fa parte anche un po' del mio percorso interiore insomma negli ultimi anni ma allora, Soul che è un disco del 2017 quindi sono passati un po' di anni ormai anche se poi in realtà mi sembra l'altro giorno che insomma si suonava in giro dico si suonava perché poi all'epoca giravo con una band, l'avevo portato in giro con dei musicisti ma a livello di sperimentazione sinceramente il mio modo di fare i dischi non è cambiato molto nel senso che l'attitudine è sempre quella di passare tanto tempo in studio fare tante ricerche sui suoni da utilizzare ovviamente poi la vita va avanti e quindi ci sono tantissime influenze nel frattempo quindi dai dischi che ascolti ai libri alla vita in realtà quello che vivi è God Bless Computers essendo un progetto autobiografico ed essendo che io cerco di raccontare con i suoni quello che vivo non scrivo i testi, non ci sono le parole però i suoni e le atmosfere comunque vogliono sempre rimandare a una storia a qualcosa che è profondamente autobiografica quindi ogni disco, e anche il concept di God Bless Computers se vuoi è quello dell'essere autobiografico, cioè di raccontare, del racconto e quindi ovviamente essendo un racconto di vita le esperienze di adesso sono diverse da quelle di qualche anno fa ma allora la piccola premessa rispetto al fatto dell'ascolto diciamo che nella mia musica c'è molta, utilizzo anche molto campionamenti, sia nel progetto God Bless Computers che nel mio side project insomma un progetto parallelo degli ultimi anni che si chiama Coralle diciamo che il campionamento, quindi anche la ricerca di musica del passato per me è fondamentale a livello proprio anche di creazione di quello che faccio quindi faccio veramente fatica a dirti un disco nel senso, ascolto veramente tanta musica tanta musica del passato, anche tante cose nuove che escono l'ultimo disco, uno degli ultimi dischi che ho comprato e che sto ascoltando è un disco di una band australiana che si chiamano Surprise Chef che mi piacciono moltissimo perché fanno sono una band, sono 4 o 5 musicisti, non ricordo però comunque fanno come una specie di musica strumentale che ricorda molto il beat making sembra quelli delle strumentali pop però suonati con dei suoni un po' vintage c'è anche gli strumenti che utilizzano quindi suona molto 70 però con dei beat casserullante un po' boom up insomma mi piacciono molto il live che porto in giro adesso soprattutto diciamo che sono due aspetti uno è quello a livello di produzione in studio uno è la musica dal vivo a livello di produzione in studio magari non è cambiato molto anzi se vuoi adesso rispetto al 2017 sono ancora di più le collaborazioni che faccio con dei musicisti in studio cioè mi avvalgo molto di più dell'ausilio e dell'aiuto di alcuni musicisti rispetto al 2017 però dal vivo la differenza è che comunque il live che porto in giro adesso è un live che vuole essere un po' immersivo in un mondo di suoni ma anche di immagini perché ci sono i visual che poi ripercorrono un po' il mio percorso i video dei singoli degli album precedenti più tutto materiale che ho nel frattempo recuperato anche a me piace molto scattare foto fare video e quindi portare tutto il mio immaginario di estetico sia musicale che immagini visive di video insomma in quello che porto dal vivo ma fortunatamente no credo che questo dipenda molto anche dal fatto di magari di non utilizzare le parole essendo musica strumentale si presta molto di più all'interpretazione cioè ovviamente su quelli che sono magari i miei canali di comunicazione possono essere i social cioè magari non perdo occasione per magari schierarmi quelle volte che ritengo sia necessario farlo a livello magari politica o di politica o di idee però no fortunatamente nella mia musica mi sono sempre sentito molto libero e mai censurato ecco grazie a tutti